Allora, siamo qui, siamo in un festival indipendente, è diventato quasi colonna sonora del festival indipendente, il tuo brano da ecco. Quello che ci chiedevamo era qual è la tua esperienza biografica proprio nell'essere indipendente quando nel testo usi la frase che l'artista vuole proteggersi dall'industria per quanto riguarda la propria arte e dal mercato per quanto riguarda la qualità del prodotto. Cioè, qual è la tua esperienza come Niccolò Fabi che è partito da Capelli ed è arrivato fino ad oggi con Ecco? Io ho iniziato a scrivere canzoni molto prima di pubblicare un disco e anche quando non c'era un editore, una casa discografica che investendo su di te faceva sentire il peso in qualche modo del suo orientamento. In realtà i problemi di indipendenza ce li hai soprattutto quando hai a che fare con la propria chitarra e con un foglio di carta dove scrivi. È in quel momento molto prima che ci sia un discografico e tu stabilisci quanto sia importante scrivere e suonare quello che ha un senso importante per te. Le pressioni in realtà dall'esterno non sono semplicemente quelle della discografia, sono quelle dell'altro, dell'ambiente in cui vivi. In realtà un ambiente è comunque una pressione che hai sulle spalle. È il gruppo di amici che ha dei gusti musicali che in qualche modo potrebbe in qualche modo spingerti o boicottare alcune scelte. Il rapporto è sempre con l'altro, cioè che importanza diamo all'altro se lo consideriamo qualcuno che ci può in qualche modo solo frenare nell'istintività o potenzialmente anche qualcuno da cui imparare qualcosa. Quindi secondo me la problematica è proprio lì, cioè gli altri sono parte del nostro percorso, possono insegnarci qualcosa o sono solamente dei freni alla nostra identità? Quindi questa è la domanda che io mi faccio molto prima di pensare se poi il discografico vorrà che faccia un pezzo allegro o uno triste. Quello è veramente secondario secondo me. E invece dal punto di vista dell'industria musicale, faccio un esempio. Qui spesso c'è lo streaming in diretta di artisti internazionali che danno la delibera senza problemi e a volte invece con gli artisti italiani c'è qualche problema in più. Secondo te perché, questo è non l'artista, ma l'industria italiana può creare dei problemi. Qual è secondo te la paura che può avere? Sì, ma sai, quelle sono le paure dei deboli tendenzialmente, no? Le paure di chi ha paura di perdere un potere che sta inevitabilmente perdendo perché il mercato musicale, la distribuzione musicale sta in qualche modo, è come se fosse un fiume che prima era unico e che adesso ha preso tanti piccoli rivoli collaterali e quindi l'industria discografica è impossibilitata a tenere il bandolo della matassa. E quindi spesso per cercare di dimostrare il proprio potere esercita delle negazioni ma che sono abbastanza inutili in realtà. Quando ho iniziato era già una parabola evidentemente discendente 17-18 anni fa. Quindi già dal 97? Sì, già lo era, lo era molto. Però in qualche modo ancora c'erano degli utili abbastanza importanti all'interno dell'industria discografica e quindi le pressioni in realtà erano anche più grandi ed erano anche però motivate in maniera più importante, devo dire migliore. Adesso in realtà siccome l'indotto che ruota attorno alla discografia è così minimo le pressioni che hanno sugli artisti sono anche contro senso o senza senso perché in realtà non c'è neanche un'ipotetica alternativa che ti possono promettere. La classica cosa dairetta a noi e così venderemo chissà cosa. In assenza di vendita paradossalmente anche la loro persuasività è diminuita molto. E visto la tua esperienza, visto che il 10 luglio sei ambasciatore per l'Art of Guinness Day 2013 che promuove band emergenti, quali consigli puoi dare alle band emergenti che magari si stanno muovendo in modo molto indipendente? Guarda, io continuo a interessarmi in maniera ossessiva non tanto alla problematica della distribuzione, alla problematica del rapporto con il mondo del lavoro ma il passo prima che non va mai dimenticato. Cioè cosa suono, perché suono, che parole scelgo, che accordi uso, che melodie uso. Quello. La mia voce ha una personalità, ha un'identità. Io vorrei parlare con i ragazzi che suonano solamente di senso delle loro canzoni. Perché il problema di adesso, la grande consapevolezza che tantissimi ragazzi hanno delle problematiche della discografia, degli stimoli che la radiofonia ha dato, fa sì che siano troppo consapevoli di cose di cui non dovrebbero interessarsi. Dovrebbero interessarsi di do minore, di fa maggiore, di come mettere un microfono sopra un rullante per ottenere quel suono che gli piace, qual è le tonalità della voce in cui rendono meglio, in cui emerge la loro personalità. Quello. Allora continuano a parlare sempre di, ah, ma discografia sì, multinazionale no, ma la radio sì, internet, il copyright, copyleft, indipendenza, dipendenza e poi di cagate. Allora chi se ne frega? Cioè mi sembra assolutamente secondario. Forse è un problema di chi è estremamente indipendente per cui deve preoccuparsi anche di questa cosa. No, ma aspetta, non dico che sia sia inutile ovviamente cercare una prospettiva professionale alla propria musica. Però quando io incontro le persone con cui in qualche modo ho a che fare e che mi fanno ascoltare delle cose musicali, io preferisco pensare e parlare con loro di quello che mi sembra sia la possibilità di migliorare la loro proposta musicale. Ma migliorare non significa avvicinarla alle esigenze di un mercato, allo stile indie o a chissà quale altre cose. Cioè dargli un'identità che sia loro, perché poi qualsiasi delusione, sconfitta, problematica, professionale, è gestita in maniera molto più forte quando tu sei sicuro che quello che stai portando avanti è la tua cosa e non è quella che ti viene chiesta, né dalla multinazionale, né dalla dedichetta indipendente, né dal pubblico di fattoni, né dal pubblico di fighetti della discoteca. È la cosa tua, è la cosa per la multinazionale. Devi andare dalla Sony o andare a X Factor, sei il tuo, perché non abbiamo bisogno di finti, che fanno i finti indie quando non lo sono o i finti pop quando non lo sono. Cioè congnuno sia se cribbio. Invece tu come artista, visto che nel 2011 hai fatto un bellissimo tour nei teatri, nella primavera hai girato per locali e club per presentare Ecco e adesso ti ritrovi a fare il tour estivo, quindi nei festival come questi oppure nelle piazze. Qual è la dimensione che preferisci tra queste tre alternative e perché? O ci sarà un pro e un contro per ogni dimensione, penso. Sì, ma credo che la bellezza di suonare è che in qualsiasi momento in cui tu suoni, in qualsiasi luogo in cui tu suoni, cambia il modo in cui lo fai, perché cambia il tuo stato d'animo, perché cambia il rimbalzo che hai sonoro della musica quando la suoni in un teatro, quando la suoni senza soffitto, con il cielo sopra di te, perché cambia tantissimo se le persone hanno pagato per ascoltarti, sono messe a sedere su una sedia o invece sono sbracate su un prato e sono lì magari anche per caso. È uno stimolo, per noi che suoniamo in qualche modo trovare un modo per comunicare anche con tutte queste diversità. La mia forse preferita è una via di mezzo, cioè il teatro è un pochino quasi troppo austero in certi casi e limita l'aspetto fisico, perché questa limitatezza dello spostamento fisico in chi ascolta noi lo avvertiamo. Quindi le situazioni in cui è una dimensione intima, quindi c'è la possibilità di ascoltare le dinamiche e quindi anche il concerto non deve essere a palla, accelerato dall'inizio alla fine per fare fronte a tutto il rumore che c'è attorno, come ci sono magari in alcuni spazi aperti. Cioè che abbia quell'intimità, però anche la possibilità di andarsi a prendere una birra e di rimettersi a sedere o per terra su un prato, quello forse è la maniera in cui la persona vive in maniera più libera. Il concerto si può alzare, si può mettere a sedere, può fare quello che vuole. Va bene. E parlando invece di Niccolò, penso che tu abbia un rapporto abbastanza forte con Padova per QAM, Medici con l'Africa. Quindi sono una parentesi su come è nato il rapporto e se ci sono altri progetti in essere anche con la fondazione. Sì, assolutamente. Ma l'inizio è stato... le cose importanti spesso nascono anche in maniera casuale, anche se poi possiamo discutere e parlare ore se sia realmente casuale. Non è l'unica organizzazione non governativa degna, dignitosa, che lavora seriamente in Italia, per fortuna ne ho conosciute delle altre. Però poi succede che succedono delle sintonie particolari con un modo di fare le cose. Uno stile che il QAM ha di grande sobrietà, di grande essenzialità, un po' questo essere veneti in senso proprio produttivi e poco inclini alle fanfare, ai grandi proclami. Sono seri, serissimi, efficaci. Noi abbiamo già fatto insieme diverse cose. All'inizio io ho dato semplicemente una mano ai loro progetti cercando di farli conoscere un po' di più. Abbiamo fatto due documentari una volta in Uganda. Parole che fanno bene, giusto? Esatto, esatto. Dopodiché poi io stesso ho organizzato un concerto di beneficenza e in prima persona ho indicato e seguito un progetto nel sud dell'Angola. Adesso, quest'anno, abbiamo un altro invece obiettivo. Ovviamente sempre all'interno della sanità africana. Certo, assolutamente. Questa volta però nel sud Sudan e il 30 agosto noi vicino a Roma facciamo sempre un evento di raccolta fondi e quest'anno torneremo a sostenere il QAM. Bene. E invece tu a cosa stai lavorando di nuovo? Dopo, ecco, hai altre idee? In particolare mi riferisco al fatto, per esempio, dei nastri d'argento che stasera premiano e c'eri tu con Il silenzio del film di Giuseppe Bonito. Stai lavorando ancora qualcosa di simile o...? No, ma la tournée è un momento che esige cura. Nel senso che... Quindi ti dedichi alla tournée? No, ma mi dedico, è un fatto proprio puramente emotivo. Quando stai in giro sei più curioso di osservare, di mettere da parte tutta una serie di immagini. Quello che può diventare materiale. Esatto. Quindi quando si vive e la tournée è vivere, non si ha tempo per scrivere. Secondo me, io preferisco farlo immediatamente dopo. Quindi la speranza e la sensazione è che tutte le cose che mi porto a casa, che sono tante, in tre o quattro mesi di tournée, saranno inevitabilmente quello che è il punto di partenza di una nuova idea. Che però... Non lo so, nessuno... Cioè, vorrei pensare ogni giorno in cui scrivere una canzone sia, appunto, una necessità e non un mestiere. Quindi può essere anche che non ne scriverò nessuna. Ma noi speriamo che ne scrivi ancora, fondamentalmente. Se sono trent'anni che lo faccio, evidentemente mi viene naturale. Però le canzoni buone a disposizione ormai sono quasi finite. Cioè, gli autori di canzoni più o meno danno il meglio di sé tra i trenta, tra i venticinque, trent'anni. Io ne ho quarentacinque, quindi credo che scriverò delle buone canzoni solo quando avrò dei buoni pensieri e delle buone emozioni vissute. Se no, le canzoni tecnicamente inutili non serve pubblicarle, ecco. Visto che parliamo di canzoni, l'ultima domanda, che è quella un po' più frivola, che sicuramente te l'hanno già fatto in tanti, ma insomma, per chiudere con una risata l'intervista, è Cappelli. Prima di tutto la porti stasera sul palco? Cioè, in scaletta? La suoniamo? Ma guarda, ovviamente è una canzone con cui ho avuto un rapporto di tutti i tipi, conflittuale inevitabilmente, ma ogni cantante ha una canzone con la quale ha un rapporto difficile e spesso è anche quella che è più conosciuta, ma semplicemente perché te l'avranno detto tutti, perché uno fa tante cose e vorrebbe che potessero essere ascoltate tutte e non una. Però diciamo che poi negli anni, insomma, il rapporto è migliorato. Diciamo che la domanda era questa, fondamentalmente. Se nel corso degli anni, come tante persone, superati i trent'anni, avessi perso i capelli, cosa che non è successa. Vabbè, sono diventati bianchi, però almeno ci stanno ancora. L'avresti portata lo stesso sul palco? Ma guarda, non lo so, perché quella è una canzone in realtà in cui io credo tanto, ovviamente non nel fatto di parlare di sé, di un aspetto così estetico, ma quanto il rapporto con la propria identità, con l'accettarsi per così come siamo, ed è un discorso che torniamo a quello di cui si parlava prima. In realtà le proprie caratteristiche, anche quelle fisiche, sono spesso difficili da accettare quando escono un po' fuori dalla norma, e quindi attraverso il rapporto comunque con l'acconciatura, se ci pensi, da sempre attraverso il modo di pertinarsi, le tribù, i secoli hanno in qualche modo definito la loro identità. Quindi è un aspetto proprio tribale, elementare, io mi riconosco in te se ho una capegliatura, è un modo di portarli simili alla tua. Quindi comunque sì, credo che vuol dire, avrà senso anche io se li dovessi perdere. Ottima risposta direi. Ringraziamo Nicolo Fabi, lo aspettiamo stasera qui sul palco dello Sherwood Festival. Buono spettacolo a tutti. A dopo, a dopo. Ok, ciao. Grazie, bravissimo. Io voglio essere indipendente, non c'è cosa che sia più importante.